Un'equazione differenziale lineare del primo ordine si presenta in questa forma. Compare la derivata prima, ecco perché si dice del primo ordine, e la funzione y incognita. I termini a di x e b di x sono due funzioni assegnate, che possono essere anche costanti, continue nel loro insieme di definizione. Ci interessa trovare l'integrale generale, cioè la famiglia di funzioni, dipendente da un parametro, che risolve l'equazione. Questo tipo di equazione presenta una formula risolutiva, che possiamo scrivere in questo modo. L'esponente della funzione esponenziale, a grande di x, è una primitiva qualsiasi della funzione a di x. Possiamo allora dividere la tattica per risolvere queste equazioni in due parti. Per prima cosa andremo a cercare una primitiva della funzione a di x, integrandola. Poi sostituiremo questa funzione nella formula risolutiva, andando a svolgere l'integrale, che comprende anche la funzione b di x. Questo ci darà l'integrale generale dell'equazione, che dipenderà da un parametro c. Riporto per completezza anche la dimostrazione di come si giunge alla formula risolutiva, dimostrazione che sfrutta quello che viene chiamato fattore integrante. Si moltiplicano primo e secondo membro dell'equazione di partenza per e elevato meno a grande di x, primitiva di a di x, ed è proprio questo il fattore integrante. Si riarrangia poi il tutto, sfruttando il fatto che nel secondo passaggio, il primo membro è la derivata del prodotto e elevato meno a grande di x per y. Si integrano poi entrambi i membri e si conclude moltiplicando tutto per e elevato a grande di x, per ricavare y. Non è necessario sapere a pappagallo questa dimostrazione, perché vedremo che ci sarà sufficiente conoscere la formula risolutiva per risolvere questo tipo di equazioni. Ma bando alle chiacchiere e passiamo agli esempi pratici. Vediamo il primo esercizio. Iniziamo riscrivendo l'equazione nella forma che abbiamo presentato all'inizio e ricordiamo la formula risolutiva. Come detto prima, il primo passaggio è quello di trovare una primitiva qualsiasi di a di x. Attenzione perché quel qualsiasi ci darà una grossa mano, permettendoci di trovare le primitive di forma più semplice senza portarci dietro costanti o altre complicazioni. Dobbiamo allora integrare 3 in di x, perché la nostra a di x è appunto la funzione costante 3. Otteniamo 3x. Il risultato dell'integrale sarebbe 3x più c, ma poiché possiamo scegliere una primitiva qualsiasi, per comodità assegniamo a c il valore 0. Adesso sostituiamo il 3x nella formula risolutiva, ottenendo questa espressione. Ricordiamo che b è 1, quindi l'integrale si riduce all'integrale di e elevato meno 3x. Per risolverlo, moltiplichiamo e dividiamo per meno 3, il che non cambia il risultato dell'integrale perché equivale a moltiplicare per 1. Il perché di questo passaggio ci sarà chiaro fra poco. Ora portiamo fuori il meno un terzo dal segno di integrale, lasciando all'interno e elevato meno 3x per meno 3. Ci siamo ridotti a quello che è un integrale immediato. Infatti, possiamo vederlo come e elevato f di x per f' di x. La derivata di meno 3x, funzione all'esponente, è proprio meno 3. Il suo risultato sarà allora e elevato f di x più c, e nel nostro caso e elevato meno 3x più c. Abbiamo finito e dobbiamo soltanto semplificare l'espressione. Facciamolo per gradi. Portiamo e elevato 3x all'interno della parentesi, ottenendo 1 più c per e elevato 3x. E ora, finalmente, moltiplichiamo tutto per meno un terzo, ottenendo l'integrale generale dell'equazione differenziale. Ci si potrebbe chiedere perché, nonostante la moltiplicazione, il termine c per e elevato 3x è rimasto invariato. Questo succede perché si sfrutta il fatto che c è una costante arbitraria. Quindi, moltiplicandola per un numero, rimane una costante arbitraria, che possiamo indicare comunque con c. È un po' come se c si mangiasse i numeri per i quali è moltiplicata. Vediamo il secondo esempio, nel quale a di x e b di x questa volta non sono funzioni costanti, ma dipendono dalla x. Riscriviamo l'equazione nella forma che ci permetterà poi di applicare con più facilità la formula risolutiva. Procediamo come abbiamo imparato. Troviamo una primitiva qualsiasi di a di x, che vale meno 2x. L'integrale è facile e dà come risultato meno x alla seconda. Anche in questo caso ci liberiamo della costante c, grazie al fatto che siamo liberi di scegliere una primitiva qualsiasi. Ora sostituiamo questo valore nella formula, ottenendo questo risultato. Per renderci la vita più semplice, portiamo il segno meno fuori dall'integrale. Siamo in un caso simile a quello precedente. Infatti, ci basta moltiplicare e dividere per 2 per avvicinarci alla forma di un integrale immediato. Portando un mezzo fuori dal segno di integrale, ciò che rimane all'interno è proprio un integrale immediato. Infatti, abbiamo e elevato una funzione, x alla seconda, moltiplicato per la derivata di questa funzione, 2x. Quindi, come prima, possiamo scrivere il risultato come e elevato f di x più c. Non ci resta da fare altro che semplificare. Portiamo per prima cosa e elevato meno x alla seconda all'interno della parentesi, facendo le moltiplicazioni. Poi, moltiplichiamo tutto per meno un mezzo per trovare l'integrale generale di questa equazione differenziale. Come sempre, la costante C si è mangiata il meno un mezzo per il quale è stata moltiplicata. Nel terzo esempio abbiamo un esercizio simile ai precedenti, che però presenterà una difficoltà al momento dell'applicazione della formula risolutiva. Intanto, riscriviamo l'equazione e prepariamoci ad applicare la formula. Troviamo la primitiva di a di x, che vale meno 2. Il risultato, molto semplice, è meno 2x. Ora, sostituiamo questo valore nella formula per ottenere l'espressione che ci permetterà di trovare l'integrale generale dell'equazione differenziale. Per facilitarci i calcoli, portiamo il 3 fuori dal segno di integrale. Ed eccoci giunti alla difficoltà di cui parlavo prima. Ho segnato l'integrale in blu perché non può essere ricondotto a uno immediato, ma va svolto per parti. Riscriviamolo e risolviamolo. Facciamo un piccolo ripasso sugli integrali per parti. Sono dei particolari integrali che si trovano nella forma del prodotto di due funzioni. Per risolverli, e riporto qua la formula, fra le funzioni che compongono l'integrale ne dovremo scegliere una da integrare e una da derivare. Fatta questa scelta, che dovrà essere accurata per non ritrovarsi in un calcolo da incubo, possiamo applicare la formula riportata in alto. In questo caso, le nostre funzioni sono e elevato 2x e x. Ci conviene scegliere come funzione della quale trovare la primitiva e elevato 2x, perché in questo modo la funzione che dovremo derivare sarà x, la cui derivata è semplicissima e vale 1. In rosso, ho riportato i calcoli che ci permettono di risalire agli elementi da sostituire nella formula. Facciamo attenzione perché nel trovare f grande di x possiamo tralasciare la costante arbitraria, perché ai fini del calcolo finale dell'integrale per parti, questa sarà comunque contenuta nell'integrale di f grande di x per g primo di x. Sostituendo questi valori nella formula otteniamo questa espressione. Fermiamoci a leggere bene ciò che abbiamo scritto. Abbiamo la primitiva della funzione esponenziale moltiplicata per l'altra funzione, la x. Poi, dopo il segno meno, l'integrale della stessa primitiva moltiplicata per la derivata della funzione x, che è 1, quindi non compare nell'integrale. Per rendere l'integrale rimasto più semplice, portiamo un mezzo fuori dal segno. Il calcolo adesso è piuttosto semplice ed è uguale a quello riportato poco sotto. otteniamo 1 mezzo e elevato 2x più c. Per completare questo integrale per parti, togliamo le parentesi moltiplicando tutto per meno 1 mezzo. Adesso possiamo tornare alla formula risolutiva, sostituendo all'integrale per parti il risultato che abbiamo appena calcolato. E' questione soltanto di fare le moltiplicazioni per ottenere quella che è la forma dell'integrale generale di questa equazione differenziale. In questo quarto esempio vediamo un problema di Cauchy. Il problema di Cauchy, conosciuto anche come problema ai valori iniziali, chiede di trovare una determinata soluzione di un'equazione differenziale, quello che viene chiamato integrale particolare, dando una condizione sulla funzione risultato. In questo caso, oltre l'equazione differenziale del primo ordine, abbiamo anche la condizione che la funzione che dobbiamo trovare valga un quinto per x uguale a 1. Questa condizione, una volta trovato l'integrale generale dell'equazione differenziale, ci permetterà di trovare un valore della costante arbitraria c. Sostituendo questo valore di c nell'espressione dell'integrale generale, troveremo l'integrale particolare soluzione del problema di Cauchy. Intanto procediamo come sempre, riscrivendo l'equazione nella forma comoda per poi applicare la formula risolutiva. Troviamo una primitiva qualsiasi di a di x, che vale meno 1 fratto x. In questo caso, il risultato dell'integrale sarebbe meno logaritmo naturale del modulo di x più c. Ma poiché possiamo scegliere una primitiva qualsiasi, possiamo liberarci del valore assoluto e scegliere soltanto meno logaritmo naturale di x. Ora sostituiamo questo valore nella formula risolutiva. Ricordando le proprietà che legano logaritmi ed esponenziali, tutto diventa molto più semplice. Infatti, e elevato meno logaritmo naturale di x vale 1 fratto x ed è elevato al logaritmo naturale di x è uguale a x. Facciamo le moltiplicazioni fra le potenze di x e poi risolviamo un semplice integrale che ha come soluzione x alla quinta fratto 5 più c. Togliamo la parentesi moltiplicando tutto per 1 fratto x. Questa è la forma dell'integrale generale dell'equazione differenziale. A noi, però, in questo particolare esercizio, interessa una soluzione particolare. Allora dobbiamo imporre la condizione del problema di Cauchy. Dobbiamo sostituire alla x 1 e alla y 1 quinto, come ci dice il problema. Otteniamo questa semplice espressione in c. Semplifichiamo i termini 1 quinto perché uguali ai membri opposti e otteniamo la soluzione c uguale 0. Questo è il valore della costante che ci permette di trovare la funzione soluzione di questo problema di Cauchy. Sostituendo questo valore nell'integrale generale, otteniamo y uguale x alla quarta fratto 5, soluzione di questo problema di Cauchy. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio! Grazie a tutti!